Roberto Baggio Ogni ricarica presso i rivenditori Wind Il mondo non è più quello di una volta Il mondo è cambiato con Wind Cosa vuoi fare stasera? Di più! Non lo so! Facevo la pubblicità per quell'altra Ma a casa sono sempre stato abbonato di più Ci sono più carrali Più partite Film più nuovi Ho visto anche te, non sei più andato via Togli subito quel piede dal tavolino Abbonati anche tu 4 canali tele più e 44 tematici Di cui 20 musicali Se non vedi di più, vedi di meno Rimetti il piede sul tavolino Non ci sono sogni impossibili Mettici voglia di vincere E poi prendici gusto Se vuoi, puoi farcela Tu e Ringo L'unico bianco e nero con in mezzo la crema A merenda Vince Ringo Apriti sedano Apriti bastarda Apriti, apriti Digita www.yol.it Apriti sedano Ti si apriranno porte Che non avresti mai pensato Hi-Fi Il mondo fa impazzire il mondo E' un momento favorevole per i nostri avversari La nostra difesa è sottoposta a un duro lavoro Ma si comporta benissimo Ecco il nostro contropiede Si sviluppa sulla sinistra Fischio dell'arbitro Lunga rincorsa Tiro Ed è gol Gol Forza Azzurri Il nostro tipo Si farà sentire Team Sponsor ufficiale della Nazionale Italiana Fischio dell'arbitro Beh E' meglio un conto che costa 60.000 lire all'anno Piuttosto di uno che ne costa molto di più, no? Bella scoperta Cambia il sistema C'è Banco Posta Il conto con poche spese E solo quelle Paolo Si è sicura che siamo sulla televisione italiana? Si Quando? Molto presto Ma io non so parlare italiano Ma se stai parlando italiano? Ah, allora va bene A presto? Sulla televisione italiana? Si, ciao, presto Superstar Venerdì ore 20 e 50 Rai 1 Ciao Ciao Grazie Marco La lenta è soprattutto Nella zona centrale perforabile Però il nostro centrocampo E' fatto tutto da giocatori Che giocano molto in verticale Che sono degli scattisti E abbiamo come contenitori Della azione avversaria Soprattutto Albertini Per cui Ci troviamo in costante difficoltà Centrocampo Perché L'impeto dei Belgi Le discese dei due terzini Fanno sì che i nostri giocatori Fatichino Come Con la Turchia Però con la Turchia capitò a tratti Qua capita Molto più In modo molto più continuativo A contenere Gli avversari Il rigore Io devo pensare Che l'arbitro non l'abbia visto Perché Non solo è clamoroso Ma quello non è solo rigore Quello è rigore d'espulsione Perché interrompe Una chiara Occasione Da gol Io credo che servirebbe Forse Un centrocampista Come Ambrosini Per aumentare un po' La potenza Del nostro centrocampo In fase di contenimento Bene Grazie Giorgia Adesso pubblicità Poi se abbiamo tempo Torniamo in studio Perché Gian Piero Galazzi Ha una bella cosa Da farvi vedere Pubblicità Lavorate fratelli Finché il padre sazio non è Non cambiate il canale Votate Comprate anche se Vi toccherà travestirvi Da pappo Natale Anche a voi Aspettando un'altra Rego annunciata Che non verrà mai Siamo in tanti Delusi Arrabbiati Lasciati qua giù In un negozio Punto 187 Vedi Tutti i prodotti I servizi Di Telecom Italia E adesso è Summer Time La grande promozione Che ti regala Trenta minuti Di telefonate Ogni centomila lire Di spesa Torno a prenderla Coltando Certe cose Capitano solo d'estate Fiat 600 da 11 milioni 800 mila Fiat Punto da 15 milioni 900 mila E Fiat Bravo da 21 milioni 900 mila Fiat Summer Non perdetevi il meglio dell'estate Che noia Che tedio Che noia Giù là Una canzone Per nostra Maestà Orsu Mi si emozioni Mi si proponga qualcosa Ci sarebbe il Super Enalotto Sarebbe? Il Super Enalotto Si giocano sei numeri Si vince col tre Col quattro Col cinque Col cinque più uno Col sei Questo mi garba Si giochi Super Enalotto Giochiamoci su Che si vince Soldi maestà Che noia Che tedio Che noia Prego Ma che colla è? H40 Keracol Per fare presa su tutto La primavera è freschezza La primavera è dolcezza La primavera è la vita Che sboccia di nuovo La primavera è San Benedetto L'acqua che sa di primavera IP ti regala il sogno azzurro Con l'abbigliamento ufficiale Play Life Della Nazionale Olimpica Italiana E poi ancora Cassette video Con gli ori italiani E CD-ROM Raccogli subito i bollini IP ti veste di azzurro Omnitel ti offre Casa Card Per chiamare un numero di rete fissa Sempre a 95 lire al minuto Allora eccoci nuovamente Nello studio Nello stadio di Bruxelles Giampiero Se mai ce ne fosse bisogno Per far capire Quanto è unito Il gruppo azzurro Sì per il momento degli inni C'è in questa moviola speciale Vediamo appunto Un Maldini e Tordo Cominciano abbracciati Come è successo a Darwin Ricordo l'immagine del 90 Dell'82 in Spagna Quando Cabrini e Tartelli Erano per mano qui E sono abbracciati Un grande gruppo L'Italia lo sta dimostrando E devo dire che Anzi perché se non cantano l'inno Si sente che In un momento particolare Con l'Aisella Tanto tempo fa Provano a Cantare l'inno D'Italia Bella immagine Ringraziamo anche L'ambasciatore Paolo Foresti Che ci è venuto A trovare in postazione Sta per iniziare il secondo tempo Ligna subito A Bruno Pizzolo Eraldo Pecci Sì